Può capitare di avere dei debiti, trovarsi in una situazione di difficoltà e non riuscire a pagare la rata di una rateizzazione dell'agenzia delle entrate, di un finanziamento, di un mutuo. Questo non dipende per forza dalla situazione economica di un paese. È chiaro che in un periodo di crisi come quello che sta affrontando l'Italia e affronterà nei prossimi mesi, questo è più facile che accada. Quindi un imprenditore che si ritrova con meno ricavi deve decidere cosa pagare e cosa non pagare. O un lavoratore che attenzione non per forza deve perdere il posto di lavoro, ma potrebbe trovarsi in una situazione economica come quella che si sta ritrovando in questo periodo l'Italia e non riuscire ad arrivare alla fine del mese. Quindi bisogna decidere se pagare o meno una rata. In questo video proviamo a fare un riassunto per comprendere che cos'è un saldo estralcio. Come è possibile stralciare i debiti? In quale circostanza è possibile farlo? Lo faremo analizzando una situazione di un finanziamento, di un mutuo o delle cartelle dell'agenzia delle entrate riscossione. Ma voglio prima farti un esempio semplice. Ipotizziamo che tu hai un finanziamento o un mutuo, hai sempre pagato regolarmente e ora ti trovi nella situazione di non riuscire più a pagare una rata. Poi il mese successivo non riesci a pagare la seconda, la terza. Insomma, entri in una situazione di difficoltà economica. Quindi che cos'è un saldo estralcio? Saldo estralcio è una procedura che ti permette un accordo tra te, debitore, e il creditore. Il creditore può essere per esempio una finanziaria, una banca o in alcuni casi, se si parla di tasse, lo Stato. Ma c'è una differenza tra i due tipi di saldo estralcio. Quello con lo Stato e quello con i privati, con le banche, con le finanziarie. Morale, un saldo estralcio è un accordo a ribasso sull'importo che avresti dovuto versare alla banca, alla finanziaria, allo Stato. Ipotizziamo che il debito era di 50.000 euro, faccio solo per dire un esempio. E riesci a trovare un accordo a 15.000 euro. Magari con pagamenti rateizzati. Ovviamente non a 24-36 mesi. Piccoli pagamenti per chiudere l'accordo. Questo è in breve un saldo estralcio. Bene, una cosa che deve essere chiara è che la procedura di saldo estralcio conviene a tutti, sia al creditore che al debitore. Il debitore ovviamente paga quello che c'è da pagare e chiude tutto. Il creditore intasca una parte, certa, subito o in tempi brevi, invece di aspettare la trafila delle recupero crediti o persino i tribunali, decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti. Insomma, pochi, maledetti e subito. Ora, il saldo estralcio ha bisogno di tempi per chiudersi. Ha bisogno di trattative per verificarsi. Ed è effettivamente anche un modo per prendere tempo per vedere se la mia situazione economica cambia e trovare un accordo. Ora, qualcuno di voi si chiede, ok, ma il debito a quanto può essere chiuso? Ti faccio un esempio. Il debito può essere chiuso al 50%, ma dipende, perché nel caso in cui tu sia nulla tenente, cioè non hai nulla da perdere, la percentuale per chiudere il saldo estralcio e avere un accordo con il creditore potrebbe essere molto più bassa. Diversamente, se hai uno stipendio o hai una partita IVA, il saldo estralcio si può raggiungere ugualmente, ma a percentuali più alte. Insomma, dipende dalle garanzie offerte, dipende da cosa uno ha da perdere, cioè cosa il creditore potrebbe attaccare. E se gli conviene avviare la trafila per attaccare o invece gli conviene trovare un accordo subito, immediatamente. Questa procedura di saldo estralcio può essere fatta anche con l'agenzia delle entrate di scossione. È stato così anche in alcune finestre che si sono aperte in passato. Ma al contrario dell'accordo che tu trovi con una banca, nel caso in cui ci sia un saldo estralcio con lo Stato, quest'ultimo è possibile solo a determinate condizioni e nei termini di legge. Morale, non puoi fare una trattativa con l'agenzia delle entrate. Cioè non è che vai all'agenzia delle entrate e dici voglio fare un saldo estralcio, troviamo un accordo, vediamo una mediazione. Una trattativa la si può aprire nel caso in cui si raggiunge un saldo estralcio con l'agenzia delle entrate o anche banche per il tramite della legge sul sovraindebitamento. Ma questo in caso è un tema che affronteremo in un'altra circostanza. Ti faccio un esempio. Qualche anno fa la legge ha introdotto la possibilità di ottenere un saldo estralcio sulle cartelle. Cioè una riduzione dell'importo da versare per quei contribuenti che si trovavano in una difficoltà economica. E c'erano delle condizioni, c'erano dei limiti di legge, quindi dovevi avere un ISEE non superiore ai 20.000, ai 20.000 euro. E potevi pagare il 15-20% in base degli scaglioni, eccetera, eccetera. Ora per attuare questo saldo estralcio con lo Stato si aprono a volte, ok, delle finestre temporali. Oppure ripeto, bisogna attivare la legge sul sovraindebitamento in determinate circostanze. Il consiglio che io vi do all'interno di questo canale è quello di espletare una consulenza con degli specialisti, degli esperti delle soluzioni debitorie per capire se conviene intraprendere una strada rispetto ad un'altra o di evitare di fare errori, cazzate, ok? Cioè di intraprendere una procedura, spendere dei soldi e poi non concludere nulla. Questa consulenza di norma serve per capire qual è la strada migliore da percorrere, quindi un saldo estralcio diretto, un'attesa, una tutela del patrimonio, una legge sul sovraindebitamento che comunque andremo ad approfondire in altri video. Infine, per avere un quadro completo, voglio darti un'informazione sul saldo estralcio immobiliare. Il saldo estralcio immobiliare, in sostanza, è un accordo che viene trovato con il creditore in cui si evita il pignoramento dell'immobile. Liberandosi dal debito, si scongiura che l'immobile vada all'asta. Anche qui vi faccio un esempio. Ipotizziamo che Antonio ha stipulato un mutuo ventennale, ha pagato per X anni e dopo un po' per condizioni economiche che sono cambiate nel tempo non riesce più a pagare. Ovviamente la banca che fa attiva una procedura per andare a incassare queste somme. Lo può fare dato che ha l'ipoteca di primo grado sull'immobile mettendo all'asta l'immobile. Ecco, trovando un accordo con la banca su una somma inferiore, evidentemente, a quella che si sarebbe dovuta versare in origine, si può evitare questa procedura. Tutto però ovviamente dipende dal valore dell'immobile. Perché se la banca gli conviene vendere l'immobile perché periziato vale molto di più di quello che tu gli stai offrendo, andranno avanti. Andranno avanti col pignoramento. Ci tengo a ribadire che questa somma può essere versata anche da parte di un terzo che va ad acquistare l'immobile pur di ripulirsi definitivamente il debitore. Dice ok, vendo l'immobile e con quei soldi stralcio il debito con la banca, perlomeno non ho debiti sul groppone. Ovviamente, ci tengo a precisare che questo accordo con la banca lo si può raggiungere solo se la banca è d'accordo. Cioè, la banca non è obbligata ad accettare un saldo estraggio. Se evidentemente lo ritiene più conveniente che attivare delle procedure di recupero crediti, di vendita all'asta, e ritiene che vendendo l'immobile all'asta l'immobile venga deprezzato, quindi rischia di incassare meno di quello che può incassare tramite un accordo, accetterà. Grazie per la visione!